Come sapete da sempre, il Filarmonico ci propone un concerto eclettico dedicandosi a vari generi musicali. Il prossimo in programma sarà un brano tratto dall'opera traviata di Giuseppe Verdi. Verdi indicò un nuovo modo di fare teatro in musica. L'azione scenica, drammatica e l'elemento interpretativo avrebbero dovuto avere il soprappetto sulla purezza melodica, sul suono cristallino e sulla prassi mercantilistica. Le melodie verdiane costituiscono ciò che più tocca l'esecutore e il pubblico. La loro funzione teatrale consiste nella raffigurazione di stati d'animo, pensieri, sentimenti, vissuti dei personaggi e ciò viene espresso da fraseggi, dal ritmo, dal materiale tematico. Ascoltiamo ora uno dei duetti più belli di quest'opera, un di felice e eterea. Vi presentiamo così i primi due solisti di questa serata, il soprano Marzia Morandini e il tenore Fabio Valenti. Ascoltiamoli accompagnati dagli strumentisti del complesso filarmonico lopato, diretti dal maestro Silvio Maggioni. Grazie. Applausi. 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 Grazie. 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 Grazie.